E allarme furti ad eboli. Sono numerosi i casi registrati nelle ultime settimane e segnalati con tanto di foto dai cittadini sui social. Nel mirino dei ladri che agiscono nottetempo le auto parcheggiate. Una situazione che sta creando non poco allarme fra gli ebolitani, tanto da indurre l'associazione Agorà delle Stelle ad inviare una richiesta al sindaco al fine di considerare la possibilità di utilizzare personale militare posto in ausiliaria.